E quindi potremmo anche già cominciare a definire un punto di massa infuocata, di irradiamento, di calore e una parte invece fatta di materia dell'esplosione, fumo, fuoco, calore. Il calore infatti è il protagonista fondamentale determinante di questa esplosione. Infatti attraverso ora l'analisi cromatica capiremo perché e come questa intensità di calore varia e anche l'allontananza e la vicinanza di questa esplosione, quindi dove sta avvenendo questa esplosione. Cerchiamo di mettere in relazione i primi due elementi che abbiamo notato all'inizio, i due strati di pittura diversi, quello superficiale e quello profondo che sta dietro, che si intravede attraverso questa pittura più fredda e scura. Allora, possiamo individuare questa contrapposizione, tonalità calda nella superficie più vicina a noi, quella superficiale appunto, e tonalità fredda rispetto allo strato pittorico profondo coperto dalla pittura superficiale. E quindi a queste due stesure di pittura, di materia, possiamo far corrispondere alla pittura calda, l'esplosione del fuoco e alla pittura fredda, quella che sta dietro, che non vediamo la natura, terra e cielo, che sta al di là della pittura dell'esplosione. E quindi possiamo ancora individuare uno spazio vicino a noi, allo spettatore, e uno spazio lontano, perché sta dietro a quello in cui noi ci troviamo. Da questo possiamo dedurre che la superficie pittorica calda che vediamo rinvia un'esplosione che sta avvenendo quindi davanti ai nostri occhi, senza nessun velo di protezione. Però questa intensità di calore varia e cerchiamo di capire da che cosa può derivare questa intensità. Lo possiamo notare non solo dalla tonalità calda, quindi non sarà solo il tono caldo di questi colori a dirci dell'intensità del calore, ma anche la loro luminosità. Infatti noteremo innanzitutto una gamma cromatica che parte dal rosso intenso cupo del tondo, che è la tonalità più calda di tutto il dipinto, fino al polo opposto di questo giallo chiaro luminoso. Tra questi due poli troviamo una serie di tonalità graduali, arancio, giallo ocra, arancio più luminoso, fino al giallo. Quindi l'intensità sarà determinata, adesso vedremo come, anche dalla purezza e dalla luminosità di questi colori. Infatti il tondo in alto rosso cupo è il centro dell'intensità, è la generazione del calore, non solo per la sua forma tonda, chiusa, precisa, immobile, come visto all'inizio, ma anche per la sua tonalità, come dicevamo, è la tonalità più intensa e calda di tutto il dipinto. Esso sfrigiona calore attraverso un alone arancione, che è una tonalità più calda, scusate, più chiara e più leggera rispetto al rosso intenso. E questo alone arancione va sfumandosi e aprendosi verso la materia ancora più calda della massa cromatica giallo-ocra che invade tutta la tela. Quindi queste tre tonalità che appena individuate, rosso, arancio-ocra e giallo-ocra sono tre tonalità molto calde ma molto spente, non sono accese e non sono così luminose, tanto da creare una densità quasi soffocante all'interno dello spazio del dipinto. A queste tre tonalità possiamo contrapporre infatti altre tre tonalità molto più luminose, il rosso intenso vivo che è quello della pennellata al centro di quello che avevamo definito terra e l'arancione e il giallo luminoso dei due rettangoli in basso a destra. Queste tre tonalità rispetto alle tre di prima sono molto più accese e molto luminose e indicano quindi non solo una vicinanza rispetto a noi, molto più vicini, si trovano questi elementi molto più vicini rispetto per esempio al tondo in alto rosso cupo, ma soprattutto hanno una temperatura più fredda. Rispetto a questo rosso infuocato questi tre elementi si trovano non solo più lontani, scusate più lontani dall'esplosione più vicini a noi, ma anche più freddi, sono toccati meno dall'intensità del calore. A questo punto sintetizzo perché non abbiamo dieci minuti. Allora il segno rosso vivace lo possiamo definire in uno spazio intermedio tra il tondo rosso e i due rettangoli in primo piano. Però la sua tonalità rossa lo collega in teoria direttamente al centro di calore rosso intenso, però vista la sua forma e la sua luminosità invece che contenere, trattenere calore è più un elemento pronto a un movimento veloce, a muoversi veloce verso l'alto, quindi possiamo supporre che questo punto luminoso sia il fattore scatenante l'esplosione, la scintilla da cui parte tutta la deflagrazione. Rispetto invece ai due rettangoli luminosi in primissimo piano vicinissimi a noi, possiamo notare che i bordi non sono perfettamente delineati, quindi sono un po' irregolari, questo ci indica che sono un po' toccati dal calore, però e soprattutto scusate la temperatura data dalla loro intensità luminosa è più bassa. Questo ci fa pensare che questi due rettangoli sono risparmiati dall'azione intensa della fiammata e dell'intensità del calore, quindi ultima contrapposizione cromatica, colore caldo cupo e scuro contro colore caldo chiaro e luminoso, che corrispondono a un calore intenso contro un calore tiepido, un calore lontano dallo spettatore e un calore vicino allo spettatore. A questo punto vediamo come gli equilibri del colore che definiscono questa esplosione, chiamano direttamente il coinvolgimento dello spettatore e quindi vediamo cosa avviene. Il movimento aperto della pittura, della materia ocra gialla che avevamo visto prima, assieme alla pittura di movimento circolare del tondo rosso, creano una situazione instabile davanti all'opera. La nostra posizione non è così sicura, diciamo, davanti a uno spazio indefinito così creato attraverso questa materia pittorica. Allo stesso tempo però abbiamo una grande sensazione di attrazione e di assorbimento nello spazio del dipinto, soprattutto verso il nucleo intenso di calore. Inoltre una tensione diffusa ci porta verso l'alone arancione, che infatti ha un colore che dilaga e si apre indefinitamente verso tutto lo spazio del dipinto. Quindi a questo punto possiamo, casomai potete anche provare singolarmente con calma perché adesso siamo tutti davanti all'opera e si va un po' male a fare questa prova, stando molto vicini al dipinto si guarda il tondo rosso alzando la testa e in questo modo si perdono i riferimenti spaziali, soprattutto dei due rettangoli luminosi e quindi si è più coinvolti, anzi si è direttamente dentro la spazialità indefinita della tela. Questo ci fa essere dentro l'esplosione, toccare il calore e la sua intensità da questa posizione ci avvolge completamente. Cosa succede invece quando abbassiamo lo sguardo, abbassiamo la testa e vediamo i rettangoli luminosi. I rettangoli luminosi ci allontanano, sono respingenti rispetto a tutto il resto nella tela e possiamo considerarli una barriera oltre alla quale non possiamo spingerci. Sono in un certo senso nella loro posizione di sicurezza e lontana dall'esplosione ciò che ci indica una posizione diversa da mantenere e da cercare così che il nostro corpo allora si allontana per ritrovare un equilibrio e un rapporto del calore tra il rosso intenso e il calore più tiepido. Ovviamente questo centro intenso di attrazione è pronto a ritornare calamitante qualora noi o rialzassimo lo sguardo o ci dimenticassimo insomma dei due rettangoli luminosi in basso. Ecco quindi che possiamo concludere con questa serie di opposizioni questa nostra reazione al dipinto. Sguardo verso l'alto contro sguardo verso il basso, perdita dei riferimenti spaziali con lo sguardo verso l'alto contro ritorno della spazialità terrestre con lo sguardo verso il basso e ancora associando abbandono al calore a trazione incontrollata con uno sguardo verso l'alto contro un allontanamento dal calore, una posizione di misura e controllo con uno spazio verso il basso e quindi un'azione irrazionale del corpo verso l'alto contro un'azione razionale del corpo con lo sguardo verso il basso. Allora alcuni punti di indicazione proprio per vedere come le stesse opposizioni che abbiamo individuato in Heat Wave si possono ritrovare in questa esplosione completamente diversa, sempre di Adolf Gottlieb, ocra e nero del 1962. Allora possiamo vedere che a differenza di Heat Wave il soggetto principale in questo caso legato all'esplosione, quello che ci dice insomma l'esplosione non è tanto il calore, l'intensità del calore, ma un acceccamento attraverso questa pittura bianca che annienta qualsiasi cosa che sta dietro. Infatti non possiamo individuare come individuavamo nel caso di Heat Wave una pittura, uno stato pittorico al di là della pittura superficiale che abbiamo davanti ai nostri occhi. Quindi qui come analisi molto veloce degli elementi possiamo vedere che invece di annebbiarci con una materia densa e opaca di intensità e di calore come in Heat Wave, in questo caso abbiamo una grande luce che ci acceca e che attraverso una sorta di controluce mette a fuoco due punti, una grande macchia e un piccolo punto in basso a sinistra. Possiamo ritenerli quattro momenti di questa esplosione che vanno increscendo e di questa esplosione che cosa possiamo cogliere? Che si dirige verso destra, verso l'alto per poi esplodere nella parte bassa e ancora quindi sottolineando la contrapposizione tra una metà superiore e una metà inferiore. Forme curvilinee, sospese, spazio cielo, contrapposte a una macchia allungata in orizzontale che definisce uno spazio terra. Grande differenza poi nel formato del dipinto, formato verticale contro un formato orizzontale, ma anche se il formato orizzontale ancora la contrapposizione cielo e terra si concretizza attraverso una distensione di questa esplosione, distensione nel tempo di questa esplosione.